Primi di novembre siamo a meno 5, buongiorno dalla Siberia Praticamente ora mi trovo a Krasnoyas, sperduta in mezzo alla Siberia in Russia E ho cercato ovunque un centro di padel o qualche campo di padel Qui non esiste, quindi l'unico modo per allenarmi era cercare qualcosa simile al tennis Perciò ora sono in questo centro sportivo e sono curiosissimo di vedere come sono i campi da tennis E come cavolo mi allenerò Comunque siamo ai primi di novembre, fa già meno 5 e siamo immersi nella natura con il nevischio per terra Bellissimo Outdoor con questa temperatura non si fa più niente Per il tennis? Qui? Tennis? Ah, qui? Buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E siamo davanti al teatro. Perché? Perché lavoro con i bambini? Per divertirsi? Per divertirsi, è come una carità Questa è una carità Ora ragazzi c'è anche un po' di nevischia, è bellissimo Dopo aver passato gli ultimi mesi a Dubai con il caldo che c'è lì, un po' di fresco fa più che bene